Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io adesso sono su un nuovo gioco, Frag Anche stavo registrando il video di un altro gioco, però Stava laggando troppo, quindi non vi volevo far perdere tempo guardando quella roba Comunque Frag, per chi non lo sapesse, è questo gioco dove la gente si spara Non so che cos'altro dirvi perché ho iniziato a giocarci oggi e quindi sono anche scarso Per chi di voi ci gioca già, magari ne sapete anche meglio di me E quindi scrivetemi nei commenti che cosa ne sapete di questo gioco So solo che ho iniziato a giocarci, ho aperto una cassa e ho trovato Frisbee Che a quanto pare è un personaggio epico E lancia dei Frisbee Che inventiva Allora vediamo adesso cosa posso fare Missioni Posso aprirmi una cassa Vediamo Sì, ci trovo 48 monete Due gemme Due gemme Un Dottor Frost Un Fagol Eagle Eagle Eye Eagle Eye Come ho fatto a leggere Fagol Eagle? Vabbè È nuova E Dan Dan Va bene Vabbè Apriamoci quest'altra cassa Sette monete Pocahunter E Dan Di nuovo Senti Dan mi stai antipatico quindi non ti migliore Migliore lui invece Perfetto Guarda ti miglioro solo perché voglio l'XP Però non giusto Perfetto E adesso vediamo cosa dobbiamo fare Innanzitutto mi metto Questo tipo nuovo Secondo voi è forte Ah una balestra Boh non lo so Lo provo dopo La bandiera è bellissima Bandiera Araba Aspetta Significa che metto le bandiere? Lei è statunitense Lui è Forse è islandese Non lo so Lui è statunitense Lui non lo so Australiano Neozelandese Credo O è australiano O neozelandese Non ho capito che bandiera Questo tipo È inglese Questa qua è Italiana Jet è italiana Almeno qualcuno D'italiano C'è in sto gioco Grazie Grande Jet E lei? Frisbee Brasiliano Eh questo ha senso Va bene Allora andiamo A farci qualche partita Questo qua Lo voglio sbloccare dopo Perché se adesso Trovo un bel baule Sblocco prima quello Cos'è il fanballo? Non interessa Ah bene Un forciere d'oro Già sbloccato Non me ne ero accorto Monete Adesso gemme Ah no Sei big pack Due dottor frost Poca hunter Oh jet GG Perfetto Perfetto Adesso facciamoci davvero una partita Allora Adesso vi spiego come si gioca Tu hai la tua squadra Contro un altro tipo Quando stai combattendo Tu combatti con un altro tipo Per cercare di distruggere delle cose Degli obiettivi E tutti gli altri della tua squadra Sono dei bot Che combattono Adesso le vedete queste cose Io devo distruggere quelli rossi Quelli là che corrono Sono dei bot E quelli in fondo Solo uno Quello vero che comanda Non sapevo che ci fosse un altro L'ha già tantissimo Però siamo pari E voglio usare Non so Frisbee Dai Oddio C'è un Sto tipo Dobbiamo uccidere GG Ecco qua Cosa è successo È successo un casino E quindi Ho dovuto E fare una roba Già che ci sono Entro in un clan a caso Unisciti Yeah Sono dentro un clan a caso Ehm Richiedo una donazione di Ehm Boh Di 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 Statizia Jet Intanto Vado nelle carte Ehm Dove cacchio è il bazooka Eccolo qua E lo miglioro Deggo su acqua Perfetto Ok Ok Adesso Sperando Che non risucceda un inconveniente Posso continuare Perché ci sono sbloccato anche un'altra roba Mi sto sperando che non mi richiamino Quindi combattiamocene un'altra Ok Canicona del tuo bunker per ordinare la tua squadra di difendere Va bene farò Vai sono un tizio più forte Sono contro un tizio più forte di me Perfetto Nooo Che cosa non mi piace Non mi piace Non mi piace Tra l'altro Questo gioco è abbastanza facile Perché ti spara da solo Tu devi solo pensare a difenderti E a curarti Vedi Mi prego adesso Fammi usare qualcosa di forte Ciao No Ricarica Ricarica Gigi No Ok Ok Ho un difensore per questo Tanto corre amico Che dobbiamo distruggere i loro cosi Come fanno ad essere con gli scarci Sì 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 Prego botta aiutatemi Vai vai tipo azzalata C'è finito la giocità dai che schifo davvero c'è perché io devo avere i botti scarsi scusami qualche bot che se la sappia cavare niente mi sa che abbiamo perso perché mi trovo la gente scarsa niente mi sa che abbiamo perso ecco adesso non queda questo in qualche modo strano si io non mi sape si io non mi sape no no è aventi è aventi il loro se lo uccidiamo vittoria come come vittoria ma che va bene te lo accetto perché non so che cavolo sia successo valuta frag boll 5 e non lo invio però perché sono cattivo no mi scherzo e mo che faccio fanbase che cos'è sto fanbase non mi interessa fatemene fare un'altra comunque avete capito più o meno com'è che funziona spero di sì perché io non ho più voglia di spiegarlo quindi combattiamocene un'altra consigli puoi parlare con i tuoi avversari utilizzando il pulsante della chat va bene se lo dici tu mi va bene ibra sono contro un tipo che si chiama ibra 7 hai un tronco si uccide non quale voce me l'ha detto ecco perché ho giusto tipo lo devo togliere dal mio marcio metto lei brava cori 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 vai nooo ha 61 cos'è quel robot non lo so però mi metto frisbee che strafigo aia ibra è forte non scherzo almeno in mezzo sto qua sto morto toccava un'icona blu che significa va bene no non la tocco un'icona blu l'ho toccata felice quanto lagga no ma tutto mi è allora l'altro tipo già eccolo qua com'è che mi ha ucciso subito mettimi frisbee voglio recuperarvi l'abbiamo quasi vinta no 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 mi ci difendete ok torna indietro torna indietro poi si torna indietro capito come si torna indietro vai nooo sta tipo dietro chi forza difendiamo difendiamo però aiuto mi ha mandato quanto lagga da 1 a 10 ok infatti stiamo vincendo abbiamo vinto dimmi che abbiamo vinto e abbiamo vinto 2 di fila oh qui 36 ho fatto pochi kill però dai segui ibra va bene ok ok però ho fatto anche una missione yeah una gemma yeah non so che dire però va bene e posso finire qui sì 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 dai finisco con dunque spero che il video vi sia piaciuto mettetevi in piace iscrivetevi tutte quelle robe là e gna 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 scarificatevi anche voi questo gioco per chi non lo sapesse comunque mi chiamo banana gialla nazioni italia clan s punto a punto non ho messo ancora il mio canale sopra però vabbè ho combattuto contro un tizio che si chiama ibra 7 e niente questo è tutto al prossimo video ciao ciao